se vuole il vostro frutto gamer che parla ben tornati su fg gaming in questo video sarà un altro prima di scioppare della skin qua di fronte cioè il soldato nevischio scioppata un anno fa questa la ritengo la mia skin preferita di natale per il backpack davvero nella top 5 del mie backpack preferite di gioco cioè quando l'ho sbloccato l'ho usato un sacco per un sacco di tempo questa sciarpetta è carinissimo boh mi piace un bot skin da 1005 non ha stili purtroppo però mi piace molto ha creato molto hype quando era uscita mi ricordo quindi oggi andremo a vedere le migliori combo con soldato nevischio con il suo backpack nevischio junior vi ricordo che se volete potete lasciare un like o un'iscrizione che non fa male ah tra l'altro alla fine del video ci sarà la parte un po più tecnica le date dei vari video che purtroppo questa settimana dovrebbe è l'ultima per i video quindi usciranno video solo questa settimana e vi spiego meglio a fine video ora andiamo a vedere il soldato nevischio e nevischio junior in game ecco il soldato nevischio in game e davvero rega sa skin è un po difficile che non vi piaccia o che comunque non vi da simpatia perché a me è un botto cioè vi devo dire la verità appena ho iniziato a giocare a fortnite questa skin non mi piaceva per niente non so neanche il perché ma intanto che si è avvicinato il periodo natalizio guardando un po di video di gameplay cosa mi ha destato subito simpatia poi il backpack guardate pure quando saltate si alza sia la sciarpetta che le braccia questa cosa molto carina essendo che non è proprio una cosa di gravità è più un'aggiunta ecco non è una skin tra yard ma tipo ma già è anzi è proprio il contrario già è maschile quindi un po più grossa sta testa enorme diciamo che un po un casino però dai come fate dire di no a questo bel faccino cioè tra l'altro con tutto questo solo rischia di sciogliersi ma questi sono altri dettagli comunque abbiamo visto il soldato nevischio e il suo backpack nevischio junior in game o adesso andiamo torniamo alla lobby e vediamo i migliori combo con entrambi ritornate alla lobby e vediamo le combo che ho scelto col soldato nevischio iniziamo subito nata la lucente scudo alfo sempre tama natalizio la sacca scalli questo un po più mi piaceva il bianco pure se è un po più sbiadito diciamo lol zaino con lo stile del cuoricino ghiacciato che ci sta keep flip 2020 nel secondo stile sono sbaglio sia il fatto che io ci sta con i colori dove la neoperesia backpack di universa non mi fa troppo impazzire vi devo dire la verità però può piacere nonostante io adoro il futuristico il suo portale infestato ci sta già un avventura anche questo è fighissimo con la switch lezza lì guglia del castello boh col tema ghiacciato può ricordare ci sta bene chi sta lo direvo sto backpack a me non mi piace non so che dirvi però ci sta effettivamente abbastanza bene no però non mi piace che così tanto trasparente questo è bellissimo forse il miglior abbinamento secondo i miei gusti cioè riprende tutto carinissimo con il gelato questo figo così così molto molto carino il baffo zaino le ali al neon lo scudo rosso congelato e infine le ali dell'amore congelato adesso vediamo gli abbinamenti con nevischio junior ok basta il suo gioco non c'entra niente però ci stava con questi colori un po più primaverili non so ci sta questa classica l'ho usata per un botto così scalli not bad dai ci sta c'è sempre un po più sull'invernale oddio è come se fosse quasi un paziente di rimedio non lo so essendo che lei mi ricorda un po una un allenatrice di pokemon sembra un po micro pokemon poi detto io la sciarpa rossa dai ci sta rega non potete dire niente non vinco di scelto io preferisco nel terzo stile non in generale se non mi piace più il primo secondo per questo back pack perché alla sciarpa blu quindi si abbina di più diciamo diva diamantina ci sta le skin congelate ne ho gli ho messe tutte a parte il mostro o almeno quelle che avevo perché secondo me ci stavano un botto ho preso il marshmallow e pinaco tecnica e il suo faccio vedere meglio perché non l'avessi visto la selfie style ci sta sempre col tema invernale trina not bad operazione zabaione congelate ci sta per se io preferisco quella normale per se ci sta meno diciamo in combo preferisco più con la congelata ma qui c'è in generale mi piace più quella normale vabbè il frostbite madonna su skin non riesco a ricordarmi il nome catalizzatore ci sta bene così pure così not bad ranger del amore congelato il corvo congelato e infine il cavaliere rosso congelato ragazzi anche questo prima di scioppare del soldato nevischio se il suo backpack nevischio junior è giunto il termine passiamo alla parte degli annunci della settimana questo video voi lo dovreste star vedendo di lunedì cioè domani per me mercoledì dovrebbe uscire un video delle combo vi dico questo siamo un po in tema natalizio capite voi e venerdì un video assurdo un video gigantesco che un sacco di voi mi hanno chiesto di fare non vi dico altro quindi venerdì tutti sul canale non so che ora lo pubblicherò ma tutti sul canale non ho niente altro a dirvi se volete lasciate un'iscrizione non like e quindi niente dalle vostre vedo